Una gara internazionale è un evento che per tre giorni vuole radunare tanti appassionati e curiosi nell'area Expo di Calvari. Questo è il trofeo internazionale San Colomano Certennoli, giunto alla seconda edizione, che radunerà i grandi nomi del ciclocross. Quest'anno intanto l'internazionale la faremo in tre giorni, a differenza della prima edizione, che è stato un po' un banco di prova per vedere come andava. Non l'avevamo mai fatto, è stata una scommessa, è andata bene, allora quest'anno ci siamo voluti un po' allargare. Giovedì è atteso l'arrivo della nazionale italiana e di quella svizzera. Venerdì le prove, sabato le gare juniores e professionisti, la domenica gli amatori e i settori giovanili. L'anno scorso erano stati circa 400 atleti a venire in valle, un evento atteso anche da chi vive in Fontana Buona. Devo dire la verità che ho avuto un aiuto anche dalla popolazione, è stata accolta bene, come ha detto anche il commissario tecnico della nazionale che è rimasto, perché non da tutte le parti sono accolti così, ho detto stranamente perché in Liguria siamo un pochettino, un po' chiusi, però in effetti hanno avuto una bella accoglienza. Il ciclocross è uno sport prettamente invernale, poco seguito in Liguria. L'evento di San Colombano è un unicum a livello regionale. Diciamo che lo scopo iniziale era di portare un evento importante in un luogo dove non c'è mai stato, a parte che questo evento penso che non ci sia in tutta la Liguria, però in modo particolare dalle nostre parti.